Io ringrazio Rete Veneta che si è fatta ancora promotrice di questa iniziativa, però il progetto che hanno in mente gli amministratori, almeno quell'embrione di progetto di ristrutturazione del traffico globale, occorrerà che passi ancora parecchio tempo. L'importante sarebbe adoperare dei provvedimenti tampone, come per esempio da sette linee ridurre il passaggio alla metà. Sarebbe più opportuno utilizzare via montagna che è una strada molto più vasta, molto più larga. Così aveva reagito il portavoce del comitato residenti di Porta Castello all'accoglimento del loro richiesta nell'ambito del PUMS, il piano urbano mobilità sostenibile presentato dall'amministrazione comunale. Come promesso abbiamo rivolto all'assessore la nuova richiesta di misure tampone in attesa della soluzione definitiva. Sì capisco le volontà dei residenti della zona di Piazza Castello che oggi purtroppo subiscono un via vai di autobus importante, purtroppo però non possiamo spostare il problema su altre zone della città. La volontà ferma dell'amministrazione è quella di risolvere in via definitiva questo problema, tanto che nella fase di studio del piano urbano della mobilità sostenibile, abbiamo incontrato i tecnici proprio qualche settimana fa, abbiamo dato indicazione chiara sia io che il sindaco di portare fuori gli autobus pesanti dal centro storico e questo sarà uno dei pilastri del piano urbano della mobilità sostenibile. Una volontà chiara da parte dell'amministrazione non per spostare il problema ma per risolverlo in via definitiva. Prendiamo atto della risposta del Comune. Rete Veneta però continuerà a monitorare la situazione in attesa che vengano onorati gli impegni assunti registrati dai nostri microfoni. La questione non finisce qui, è continua.